Shabbat a tutti, spero che avete fatto un grande Shabbat, Shabbat a Gadol, Shabbat prima di Pesach, preparando in una maniera veramente per Pesach, non è una cosa facile. In tanti modi, probabilmente, no, abbiamo finito il libro di Scemotti, Exodus, e in un modo stiamo ritornando per Pesach, parlando della uscita, e siamo adesso nel deserto, abbiamo fatto il Mishkan, e tutto, tutto il libro di Exodus era il discorso del Mishkan. Preparare, fare, tutto, tutto, tutto. E adesso con Pesach torniamo. E ci sono tante cose da preparare, perché non è solo un discorso di casa, e non è solo un discorso di mettere a posto le cose e cambiare tutto per Pesach, che non deve essere quello che era questa settimana, ma per la settimana di Pesach si deve cambiare. Non solo quello che è a casa, e non solo il discorso del lievito, e non solo il discorso di kitniot o no kitniot, ma quello che è necessario è di veramente guardarsi bene, perché Pesach e Jezias Mitzrayim è uscita dall'Egitto. uscita dall'Egitto come popolo, insieme, con la mano di Dio, di vedere tutti i miracoli che Hashem ci fa. Quello che è il grande discorso di Pesach, veramente, è il discorso che noi, come esseri umani e come ebrei, ovviamente, abbiamo da rivivere questo Yeziat Mitzrayim, questa uscita dall'Egitto. E infatti, noi stiamo vivendo questi 40 anni per tutti i secoli, perché stiamo sempre uscendo da un Mitzrayim, da un Egitto. ognuno di noi ha il suo Egitto personale, ha il suo Egitto che si è creato in questa vita, ha una ragione perché vuole seguire la Torah o non vuole seguire la Torah. Ma una cosa è certa, vuol dire, con le parole di Hashem, essere preso fuori dal popolo. Quello vuol dire se tu mangi lievito che è assolutamente vietato durante Pesach, si è preso fuori dal popolo. Le parole sono difficili. Hashem non, veramente non dà retta, perché Lui dice tu sei il mio popolo. Per me, quello che ho fatto per te è ti ho dato Kedusha, ti ho dato il Sacro. E per quello che io ti ho dato il Sacro, tu devi essere Sacro. e tu devi ascoltare quello che io ti metto fuori, i miei comandamenti. Allora, nella Parashah Vaikra, il libro è Vaikra, il libro di Leviticus, è la Parashah Vaikra. Ed è veramente la Parashah più difficile di tutti i cinque libri di Mosè. e ha una caratteristica che nessun altro libro ha. Probabilmente il libro di De Varem, perché ci sono tante leggi, ma qui ci sono leggi molto, molto, molto personali e non lo so quante volte ho studiato e ogni volta, come oggi, mi viene fuori una cosa che proprio è successo nella mia vita e che un anno fa non ho non ho fatto attenzione, ma in quest'anno è diventato una cosa enorme. La prima cosa è la prima parola, perché la prima parola Vaikra alla fine ha la lettera Aleph, la prima lettera dell'alfabetico ebraico. E questa lettera è molto più piccola di tutte le altre lettere ed è l'unica volta in tutta la Torah che è così. Se vi ricordate la settimana scorsa abbiamo lasciato a Mosè che ha finito il tabernacolo ma non poteva entrare perché la nube di Hashem era sopra l'entrata e non ha lasciato a Mosè entrare. perché Hashem è venuto per accomodarsi dentro la sua casa. E allora con questa parasha lui inizia e io sono nel Chumash Kutnik perché non ho levitico della Mamash e non ho in italiano e allora faccio traduzione intensiva al momento lui chiama chi chiama Mosè chi chiama Mosè chiama Mosè chiama Mosè con affetto lui ha parlato a lui da solo da dentro da dentro il tabernacolo e ha detto parli ai figli di Israele e ovviamente questo inizia tutto il discorso ma è importante di sapere perché c'è questo piccolo lettera Aleph allora qui abbiamo Shabbat Parashah Vaikra 57 41 un discorso del Rebbe e dice essendo la prima lettera delle 22 lettere dell'alfabetico ebreo Aleph la lettera si chiama Aleph è il capo di tutte le lettere e questo è anche perché Aleph è la prima lettera della parola Aleph leader boss e allora il fatto che l'Aleph è piccola vuol dire giusto e l'opposto che Mosè con tutto quello che era tutto quello che era non si è mai dato il grande il grande leader il grande personaggio il grande sapiente il grande ego mai mai è sempre rimasto totalmente e completamente umile e Revit insegna che normalmente le persone che hanno grandi talenti ok anche se sono umile così quando si parla del loro talento allora diventano ok si gonfiano invece non è necessario di gonfiarsi perché quello che è grande è grande e se non è grande nell'occhio di della competizione è grande nell'occhio di Hashem e alla fine quelle sono le cose importanti e allora quanto più importante un profeta non abbiamo mai avuto c'è lui c'è Mosè e Hashem lo ama e lo parla con affetto il libro di Vaika è anche il primo libro con cui iniziano i bambini nel Heder quando iniziano imparare l'ebraico e perché è il libro più difficile di cinque libri perché a un piccolo di cinque anni iniziano a dare già il Vaika è interessante perché Rebbe scrive Dio ama il bambino che ancora non ha osservato o studiato tra come Dio continua a amare l'adulto anche se lui ha deciso di non osservare il studio della Torah ma lui le dà la possibilità di ritrovare la strada e sia che questa parasha parla e questo libro parla di sacrifici e parla di quello che Hashem vuole che noi portiamo a lui per sacrificare e per dare a lui la purezza di quello che è il sacrificato perché perché tu sacrifichi tu sacrifichi perché hai fatto delle cose che non dovevi fare e chiedi scusa ok e allora uguale lui scrive come il sacrificato è puro così sono pure i bambini e tutti due cose parlano del valore intrinseco nella relazione con Hashem noi abbiamo possibilità non oggi perché non abbiamo più il tempio ma abbiamo altre cose che possiamo fare magari voi leggete questa parasha io spero proprio di sì perché la Torah dice chi legge chi legge i nostri saggi dicono chi legge la le leggi per portare i sacrifici il sacrificio è considerato come lui lo ha portato per questo è possibile ed è appropriato a studiare le leggi di tutti i sacrifici nella sua nella loro interità e tutte le leggi del tempio e tutto quello che sono le varie cose che sono dentro del tempio come sono spiegati molto molto chiaramente nella nel lavoro di Rambam la Mishneh Torah nel libro Avodah e Korbanot quello vuol dire il lavoro come sacrificare e allora c'è la possibilità e questo e questo è una cosa che veramente da vedere e da studiare è da mettersi nella testa il fatto che noi non abbiamo il beta migdash abbiamo già detto tante volte che sia che non abbiamo il beta migdash il beta migdash in verità siamo noi il nostro cuore la nostra mente il nostro essere è in verità il posto dove risiede Hashem allora se lui vuole che io porto ok come lui dice e allora questo dovete veramente studiare ma io ho preso il parashava ikra del torah punto it ok perché è importante molto 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 importante parla ai figli di israele e di loro e di loro quando alcuno tra di voi voglia offrire un sacrificio al Signore tra gli animali quadrupedi potete fare il vostro sacrificio delle specie bovina o delle pecorine o caprina se un olocausto egli è il sacrificio che vuoi fare e questo delle specie bovina lo presenterà consistente in un maschio immaculato allora ancora una volta come abbiamo detto prima tutto è disegnato in perfezione questo vuol dire non è che tu prendi una bovina e tu porti la beta migdash è finito ci sono delle leggi come si deve fare e il sommo sacerdote e i sacerdoti leviti sono assolutamente insegnati ogni piccolo dettaglio come si deve fare allora leggere e studiare e veramente mettersi dentro il humash prendere questa ora quest'ora e mezzo durante la settimana e mettersi a studiare e come che tu hai attualmente ci perdono come tu hai attualmente fatto il sacrificio allora chi va a leggere una cosa che assolutamente non vado a fare una persona che vuole prima vivere una vita dedicata a Hashem e secondo sa che quello che noi facciamo nella vita sono un peccato dopo l'altro e anche se tu veramente veramente tenti di fare delle cose per bene fai sempre delle cose che non stanno al cento per cento e allora se tu sei grande porti grande fai molto se non sei grande porti piccolo e qui voglio veramente portare il discorso che abbiamo fatto settimana scorsa e abbiamo parlato dei incensi e quanti di voi mi hanno scritto e hanno voluto sapere quale incenso dove si compra perché di quello che abbiamo parlato era che questo incenso franchincenso puro da Israele kosher ha salvato la vita di tantissime persone ed è arrivato a me attraverso un'amica del belgio e io prendo e porto ai miei amici il franchincenso e chi l'ha preso è stato guarito e allora oggi e questo anno scorso non ho fatto attenzione ma oggi ho fatto attenzione perché mi è venuto nella testa come un palone e qui dice farinaccia tu porti io te lo leggo questo in italiano perché è un po' diverso la spiegazione e allora quando quando taluno voglia presentare al signore una offerta farinacea la sua offerta consiste in fior di farina e vi collerà sopra l'olio e vi metterò sopra dell'incenso e questo incenso si chiama franchincenso egli la richierà ai figli di Arone sacerdoti ed il sacerdote ne prenderà via pieno il pugno allora la cosa il pugno che si parla si parla di tre dite pugno allora quello che è sotto le tre dite ok il sacerdote si prende a fior di farina e l'olio unitamente a tutto l'incenso e arderà sull'artare il suo buon profumo cioè questa parte queste parti dell'offerta destinata ad ad escallare il profumo e sacrificio da ardersi al signore odore propiziatorio ed il rimanente dell'offerta farinacea appartiene ad Arone e dai figli suoi e cosa santissima porzione ad essi devoluta dalle cose da ardersi al signore allora che cosa è questo abbiamo parlato la settimana la settimana scorsa della dell'olio di unzione e come si deve fare con l'olio per tutte le cose che sono dentro il betamegdash il il santuario il tabernacolo per me è sempre betamegdash allora una delle cose che ha detto Hashem nessuno può fare questa cosa per se stesso né la combinazione dell'incenso che ha dentro molte molte cose che è detto esattamente dovete leggere ma nella settimana scorsa la parola franchincenso non era dentro allora io non lo so perché nel nel chumash di di mamash non è la parola franchincenso perché la parola esiste in italiano vero e allora qui è scritto assolutamente tutto quello che ha da fare con i farinacci deve essere messo insieme con il franchincenso e allora il franchincenso che io sto parlando è puro viene in tanti tanti piccoli briccioli e io prendo 18 briccioli di quelli piccoli li metto sotto la lingua e li faccio non sciogliere perché è una resina allora non si scioglie ma diventa molle non è un gusto favoloso ma non è importante perché salva vita è una cosa che in israele ha salvato migliaia di persone haribim della comunità molto molto ortodossa all'inizio del covid e la settimana scorsa non mi ricordava esattamente a che data è arrivata a me questa notizia era il 24 di febbraio di aprile anno scorso e da allora l'ho ovviamente ordinato immediatamente in israele e da quando è arrivato io lo prendo in continuazione anche se non se sto bene ma con la malattia che aveva mi ha certamente aiutato moltissimo e io lo devo dire lo devo mettere fuori chi vuole mi scrivete e io vi mando come la settimana trascorsa il link dove si compra e quale è la la compagnia che ha il più puro in centro allora tutto dentro questo capitolo deve essere fatto esattamente come è scritto e c'è una cosa importantissimo che non si deve dimenticare per nessun motivo l'ultima parola oratora vaikra pagina 226 227 il discorso di sale il pensiero chassidico offre l'altare la tua anima animale l'inizio è tutto quello che è il desiderio fisico e tu lo offri a Dio sia che questi desideri vengono dal sangue ogni sacrificio deve essere salato che significa una risoluzione forte della persona che sta portando il sacrificio per estrarre questi questi desideri dall'anima animale come il sale estratta il sangue come voi sapete ovviamente il sale è usato per cacerizzare la carne e allora qui stiamo facendo sacrifici di carne di farinacce di tutto tutto deve avere sale qui c'è un discorso interessante persone hanno paura del sale perché sale fa la pressione alta e sale i dottori dicono che non sta bene per il corpo la 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 prima cosa si deve usare sale himalaya perché è puro è dentro tutto e non comprare il sale che ha dentro la florida il sale kosher ovviamente è la cosa migliore di usare perché è forte e porta fuori ancora di più ma sale è necessario per il corpo molto 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 necessario e non puoi iniziare o non devi iniziare senza mettere un po' di sale sopra il pane prima di fare la benedizione almeno così si faceva a casa mia e si fa nel nel discorso chassidico che non esiste una tavola senza sale e non esiste che tu non metti un po' di sale sul pane prima di fare la braha e la benedizione e dopo si mangia il sale intanto Dio ha fatto un discorso all inizio del della della creazione con il sale che così sarà e il sale che è una una creazione molto importante allora qui si è usato il sale di Sodom vi ricordate Sodom perché la moglie di come si chiamava di Lot la moglie di Lot non mi ricordo adesso il nome è diventato un una un pezzo di sale perché ha guardato indietro e ha visto l'angelo della morte e allora il sale di Sodom molto 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 forte adesso vi riporto Zohar e Zohar parla delle cose come voi sapete già in un modo un po' diverso e guarda le cose molto 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 del Pnimiut di quello che è dentro e questo è ovviamente traduzione mia del soncino Zohar la parasha Vaikra se il suo obbligo è una offerta bruciata del alevimento Rabbi José ha chiesto perché dovrebbe esserci tre tipi di olocausti della mandria dal greggio e dagli uccelli perché non è sufficiente una la ragione è che se un uomo può permettersi porta un bue e se non può permettersi un bue porta una pecora e se non può permettersi una pecora porta un pollo perché Dio non richiede da un uomo più di quanto possa fare Rabbi Lazar disse la sua offerta doveva corrispondere al suo peccato e un uomo ricco gonfio della sua ricchezza doveva portare un bue perché era probabile che i suoi pensieri fossero i più peccaminosi un uomo di mezzi moderati ha portato una pecora perché non era così incline al peccato mentre un povero che era il più timido di tutti portava la più piccola offerta di tutte e l'offerta di ciascuno è stato valutato da Dio nel suo vero valore l'offerta del povero è piccola perché il suo cuore è abbattuto e quindi anche se nutre pensieri peccaminosi è perdonato perché è sufficientemente punito dalla sua stessa angoscia e quella della sua famiglia un uomo ricco una volta porta al sacerdote una offerta di due piccioni vedendoli il sacerdote dice questa non è una offerta per te torna a casa molto triste la sua gente gli ha chiesto ma perché fosse così triste e lui ha risposto perché il sacerdote non è accettato la mia offerta cosa cosa hai portato l'hanno detto ha detto loro che erano due piccioni che cose dice rispondere due piccioni un bue un solo il solo pensiero del peccato è allora così grave che io devo portare un bue e gli ha detto giuro che non lascerò che il pensiero del peccato entri nel mio cuore da quel giorno trascorreva la giornata in affari poi andava a letto la notte e al risveglio chiamava i suoi fratelli gli insegnava la Torah e lui la studiava fino all'alba quindi poiché studiava lo chiamavano il giuda trasformato un giorno era vigessi il vecchio lo trovò che divideva i suoi soldi metà per i poveri e metà per le merci da spedire oltre mare e dopo aver finito si sedete e studio la Torah e allora che cosa impariamo impariamo che la grandezza dipende da quello che tu hai dentro e se tu hai fatto tanto che non va bene allora devi portare grande cose se tu invece sei povero e non hai fatto niente come ti ha detto il la cabalà e stai già soffrendo allora i pigioni vanno bene e vanno accettati una cosa importantissima tutto quello che è scritto nella Torah viene da un punto di vista di grande amore di Hashem vuol dire Dio ci dà l'opportunità di portare sacrifici perché lui vuole che noi ci rendiamo conto che abbiamo peccato oggi tu non puoi portare un bue tu non puoi portare una pecora non puoi portare un pollo ma che cosa puoi fare puoi fare zdaka puoi dare e aiutare a quelli poveri che non hanno ci sono migliaia 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 di ebrei in tutto il mondo che hanno bisogno aiuto per la Pasqua non hanno mazzà non hanno carne caccia non hanno niente e ci sono tanti in Israele e ci sono tanti 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 persone che stanno cercando di aiutare stacca dare è la stessa cosa come portare un bue se tu dai soldi e se tu dai e questa è la cosa più importante se tu la dai con l'intenzione giusta l'intenzione giusta non vuol dire io ho tanti soldi e allora io do i soldi per una per un discorso di le tasse non siamo lì dal punto di vista legge tu dovresti dare 10% di quello che incassi quello è normale 10% 5% 5% 10% ma quello che tu dai o vuoi dare oltre di quello che hai da dare dove tu veramente ti rendi conto che quello che tu puoi fare per gli altri in ogni momento fa una differenza quello vuol dire tu non devi vedere la persona che prende e non è importante tu devi sapere dentro di te che tu l'hai fatto con cuore aperto che tu l'hai fatto con cuore dello spirito con l'intenzione di fare il bene di dare di quello che hai e condividere con gli altri non è non è non è la conversazione che tu che tu sei ricco o tu sei povero per niente non è necessario per niente quello che tu hai bisogno di fare è di dare e questo si chiama stacca se una persona fa un voto che si farà del male o farà del bene e dopo non lo fa è un peccato in altre parole tutto quello che tu fai ancora tradice se tu fai un sacrificio per quello che tu hai fatto un voto per il bene per il male dopo non hai non hai ascoltato e non hai fatto quello che hai detto devi portare un un sacrificio ok e specificamente specificamente scritto un animale che è femmina ma tu devi offrire con una intenzione specifica che questo è un peccato che tu hai fatto e come peccato tu vai a portare il il sacrificio nessuno ti guarda nessuno sa chi sei nessuno sa che cosa fai nessuno è dentro la tua vita il tuo corpo ma una cosa è certa e tu non puoi metterti e nasconderti perché non c'è un posto da nasconderti e se tu non fai pesah come tu devi fare pesah magari i tuoi amici anche non fanno pesah come si deve fare pesah anche anche quello ascem sa e lui vede e anche di questo non puoi nasconderti c'è una intenzione che vorrei vorrei condividere con voi e veramente darvi come un pensiero da portare dentro il pesah noi viviamo in un mondo mettiamolo così che non è tanto spirituale che persone parlano e dicono e non fanno o fanno delle cose male questo è mizraim questo è schiavitù schiavitù personale ognuno di noi ha questo mizraim personale ma quando noi adesso usciamo dall'Egitto e noi leggiamo la Haggadah e io faccio una cosa molto 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 speciale quest'anno non per le due notte ma subito dopo finisce per noi lunedì sera i primi due giorni del Hag io faccio un seder per sei donne non ebrei e io faccio per loro un seder così loro possono avere l'esperienza come veramente si fa un vero seder con tutto faccio assolutamente tutto e dopo vi faccio vedere perché lunedì sera allora è già dopo la prima parte del Hag e allora faccio questo per sei donne che sono molto vicino a me qui a Reggio che verranno a condividere un vero seder sono sono tutti religiosi cattolici e non hanno mai visto un seder allora questa volta lo vedranno tanto tanto da fare ma sarà una notte splendida sono sicura e questo era un' intenzione mia di farlo perché lo so che è molto molto importante per loro è molto gradito a loro ma è anche molto importante per me di condividere la mia tradizione con persone che sono interessate e vogliono sapere come attualmente si fa e allora quello che volevo dire non è solo una cena non è solo preparare il mangiare ma c'è dentro una forza enorme di studio un amore che mostra Hashem al suo popolo è una cosa per noi ognuno di noi personale di lasciare via le cose malefici e di veramente seguire la strada che Hashem ci indica ognuno di noi ha un Egitto personale dobbiamo saperlo e dobbiamo buttarlo e quanto più si butta quanto più sacrifici si fa quanto più sedaca e il bene tu fai agli altri più vai a uscire dal tuo Egitto personale carissimi amici noi non ci vediamo la settimana prossima ovviamente vi auguro Chag Pesach Kaser Vesameach un Pesach di uscita dell'Egitto un Pesach di pace un Pesach di capire l'amore di Hashem al suo popolo capire che prendere questi due giorni e leggere la Gadah in ebreo in italiano in qualsiasi lingua perché abbiamo dato la Torah in 70 lingue sapendo che noi siamo fuori e saremo fuori di Israele e noi quelli che viviamo nella Galut quanto è importante di connetarci con la nostra terra con il nostro popolo con il nostro dio con le nostre tradizioni anche se non vi piace gefilte fish perché è troppo troppo aschina zitta io faccio non gefilte fish quest'anno ma i miei vicini mi hanno comprato bellissima spigola fresca e io faccio alla marocchina una delle cose faccio tante cose ma questo faccio così intanto chak samer chak kashervi samer mangiare mazzà è veramente prendere la casa disfarla fuori con il lievito perché il lievito gonfia e questo è l'ego e quello vogliamo buttare statemi bene vi auguro una buona settimana di tanto tanto lavoro ma con una intenzione veramente di avere il pesah più buono del mondo anche se non è così facile quest'anno ma ancora molto più l'intenzione di che cosa vogliamo ottenere e quello è teshuva teshuva ritorno a quello che è la nostra tradizione il nostro popolo quello che Hashem vuole di noi e se noi diamo quello che vuole lui ci ha promesso che manda Mishach e la ridenzione una buona settimana che Buon settimana, un paese, un paese, un paese, un paese, un paese. Grazie a tutti.